Questa mattina abbiamo consegnato ai bambini delle prime classi delle scuole elementari di finale di massa e cui abbiamo regalato a tutti i bambini questo stupendo libretto che è un libro pensato e fatto apposta per i bambini di prima che è frutto di un concorso fatto con gli studenti del liceo. La vincitrice del concorso che è Alessandra Barbieri ha realizzato questo prodotto con dei giochi da colorare, dei puntini da unire dove ci sono con un linguaggio studiato opposto per i bimbi tutte le cose importanti del nostro territorio comunale. Ci sono della chiesa degli Obici con tutto il candido di Masso Finalesi, il castello Carrobbio con tutta la sua bellissima storia. Voi sapete che questa villa è stata fatta perché il conte sacerdoti aveva una moglie bavarese che soffriva della nostalgia di casa e gli ha fatto un palazzo uguale e identico a quello della sua famiglia in Germania. Speriamo che sia gradito ai bambini, questo è il secondo anno consecutivo che lo diamo, purtroppo abbiamo dovuto fare una cerimonia contenuta perché il Covid ci impedisce di fare assembramenti, ma abbiamo voluto comunque dare a tutte le famiglie questo segno tangibile della loro comunità.